Ah hi people of youtube, benvenuti nell'episodio 0 di Golden Sun The Lost Age. Questo di oggi è solo un tutorial uscito forse 20 anni troppo in là nel tempo, ma questo è un tutorial per come trasferire il salvataggio di Golden Sun 1 in Golden Sun The Lost Age. Ovviamente questo è il metodo che richiede il cavo link, ma c'è il metodo più semplice che richiede solamente la scrittura di una password appunto da Golden Sun 1 a Golden Sun 2. Ma siccome noi abbiamo la possibilità di utilizzare il cavo, facciamolo così che uno è più semplice e due trasferisce tutto senza lasciare nulla al caso. Quindi abbiamo come vi dicevo bisogno di due Game Boy Advance, Uno con il nostro Golden Sun e l'altro con Golden Sun The Lost Age. Accendiamo The Lost Age sul secondo Game Boy. Ecco qua la schermata Nintendo, Camelot. Camelot presenta Golden Sun Libro 2. Bella l'introduzione, erano veramente tantissimi anni che non la vedevo. Qui su Golden Sun dobbiamo un attimo lasciare da parte. Accendiamo l'altro Golden Sun. Ecco qua. Lo so che non si vede però il primo Game Boy non aveva la possibilità di avere la letroilluminazione. Teniamo premuto LR, schiacciamo sinistra e B. E ora è apparso il menu spedisci. So che voi non lo vedete ma è questo qui. Prendiamo il nostro cavo, abbassiamo un attimo la musica, lo attacchiamo al primo, lo attacchiamo anche al secondo. Nel secondo facciamo Inizia una nuova partita. Il personaggio lo lasciamo chiamato Felix o Felix come preferite e facciamo End. Vuoi trasferire i dati su Golden Sun? Sì. Con il cavo. Qui lasciamo da parte. Qui facciamo Spedisci. Gekko che è il nostro salvataggio appunto completo. Usare il cavo. Invio dei dati e mentre l'altro sta ricevendo i dati. E appunto tutti i nostri dati sono stati ricevuti. Gekko con 40 di livello, Garrett 40, Ivan 40 e Mia 40. Chiudiamo le informazioni. Lo lasciamo chiamato Gekko. Ed ecco fatto. Il gioco è iniziato. Solo che questa parte, ovviamente, ve la dovrò far vedere in un'altra sezione. Perfetto, ora che siamo arrivati al prologo, facciamo il nostro salvataggio. Nessun dato salvato. Ecco fatto. Togliamo la cartuccia e la inseriamo nel nostro epilogue. Cartuccia originale, Golden Sun l'era perduta. Quindi, questo era l'episodio 0 come vi avevo detto. Noi ci vediamo la prossima puntata con il primo e vero e proprio episodio di Golden Sun l'era perduta. Ciao. 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 Grazie.